Erano stati annunciati mesi fa e ora vedono finalmente la luce. Dopo le tante richieste dei cittadini e decine di segnalazioni arrivate anche alla nostra redazione, dalla prossima settimana partiranno i lavori di asfaltatura delle strade comunali per un totale di 3 milioni e 700 mila euro. La lunga lista delle vie interessate comprende anche la strada comunale ferriano e quelle della Cerbara e della Galassa, molte vie di Ponte Sasso, di Sant'Orso per il completamento degli interventi già iniziati, di Montegiove e Carignano, poi le zone dell'ex campo d'aviazione del Vallato, diverse vie del quartiere Fanella, alcuni tratti di via Roma e di Cucurano. Verranno asfaltati inoltre i controviali di viale Cairoli, le vie Campanella e Tognolo a Rosciano di Fano, così come via Inaudi nel tratto che va dalla rotatoria che porta ai parcheggi del Fano Center fino alla rotatoria di via Meda e nel tratto di accesso ai parcheggi del Brico Center. I lavori verranno eseguiti con l'utilizzo di materiali e tecniche diversi e più performanti rispetto a quelli a suo tempo utilizzati. In queste settimane, in questi giorni, tanti cittadini sollecitano giustamente l'intervento sulla manutenzione delle strade. Io in più occasioni avevo annunciato che avremmo asfaltato molte nuove strade, una gara d'appalto è già stata espletata con già la ditta vincitrice per 3 milioni e 7, altri oltre 2 milioni seguiranno e dovevamo partire con le asfaltature nuove nel mese di aprile. Purtroppo tutto l'aumento delle materie prime, l'aumento anche dell'energia ha creato una serie di condizionamenti sulla partenza di molti lavori, tra cui le nuove asfaltature. In queste settimane c'è stato un dialogo, siamo riusciti adesso a superare l'impasse, quasi tutta la città verrà interessata, partiremo in alcune parti, teremo conto sia delle strade interne sia di quelle più trafficate, in alcuni quartieri partiremo con leggero ritardo perché ci sono dei lavori in corso di sottoservizi, ovviamente le asfaltature saranno fatte dopo, però tutte quelle annunciate da lunedì partiranno. Partiranno due ditte della cordata che ha vinto, fra l'altro sono anche ditte locali del nostro territorio, quindi questa è una bella notizia per cui volevo annunciare che da lunedì partiranno le nuove asfaltature.